La nostra azienda è nata da mio nonno nel 1912 e prosegue tuttora. Mi ha un socio che era il signor Torricello Salvatore, noi andiamo avanti io e il suo figlio Mario. La cantina Manzini oggi produce più di 2 milioni di bottiglie e l'azienda agricola sono 30 ettari di vignetti. Per poter lavorare bisogna appoggiarsi alla grande distribuzione e noi abbiamo avuto la fortuna di poterne servire una decina. Abbiamo tre linee, abbiamo la linea Cantina Manzini, la linea Piani Castellani che è la tenuta dove siamo oggi e la tenuta Valorosa che è a 3 chilometri da questa. Con i vini di questa azienda abbiamo prodotto due vini nuovi spumanti, un Oltrugo e un Gutturnio che l'abbiamo chiamato Intenso. Grazie!